ringrazio appunto tutte e tutti per la partecipazione e per i contributi che vi siete disponibili a portare in questa giornata e in questo dibattito sono giornate molto importanti per il movimento per l'acqua italiano perché come saprete ricorrono dieci anni dal referendum del 2011 e quindi abbiamo deciso pur avendo svolto ogni anno delle iniziative importanti che questo dovesse essere caratterizzato come un anno particolare con una grande mobilitazione a livello nazionale e diffusa sui territori e con il dibattito a carattere internazionale di oggi As you know, every year we have celebrated that anniversary but this year it is a special anniversary and we have decided to promote a bigger movement per cui nei giorni scorsi, settimane scorse si sono svolti ma altri sono in programma anche nella prossima settimana decine di iniziative sui territori e ieri una bella, partecipata, colorata e determinata manifestazione nazionale a Roma As you know, in the last days and in the last weeks we have celebrated some initiatives and we will continue also in the next week but yesterday we celebrated a big, joyful and colorful manifestation in Rome Ovviamente come tutti comprendiamo questo è un momento particolare, è un periodo particolare a causa della pandemia e dell'emergenza sanitaria per cui la partecipazione anche a iniziative in presenza non è un dato scontato nonostante questo gran parte delle iniziative, compresa la manifestazione di ieri ha visto una buona partecipazione, quindi ha significato che il tema dell'acqua ha ancora, diciamo, ritenuto in grande importanza da parte della società civile e dei cittadini e delle cittadine So as you know, we are experiencing a special moment because of the pandemic and the earth emergency notwithstanding this, the participation in the last days and in the yesterday manifestation was important and it was a great contribution and this means, once again, that the issue of water is extremely important for the civil society and for citizens in general Ora, diciamo, vengo a le ragioni che ci hanno spinto a promuovere appunto una mobilitazione così complessa e così significativa Un primo dato è che a dieci anni di distanza appunto dal referendum nel 2011 l'esito referendario e la volontà popolare è stata prima disconosciuta e poi anche fortemente contraddetta Well, after 10 years from the referendum of 2011 the outcome of the referendum was first disregarded, then neglected and finally actively opposed Oggi siamo in una situazione in cui c'è il rischio abbastanza chiaro che attraverso una serie di provvedimenti si rilanciano i processi di privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato in Italia And today there is the real risk that, due to some measures taken, the older systems of privatization would be again on the verge E bisogna anche evidenziare come ci siano gli uomini giusti al posto giusto per realizzare questo progetto And it is also important to say that now we have the right people at the right places to make this project becoming true Faccio particolare riferimento al Presidente del Consiglio Mario Draghi che nel 2011 si rese protagonista di un gesto fortemente antidemocratico And I'm referring in particular to the President of the Council of Minister Mario Draghi that in 2011 made a very antidemocratic gesture, if you can use this term Firmò insieme all'allora Presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet e lui, come Mario Draghi, in qualità di governatore della Banca d'Italia una lettera il 5 agosto 2011 al governo Berlusconi And I'm referring to the fact that on that occasion, together with the President of the European Central Bank, Trichet Mario Draghi, as President of the BC, signed on the 5th of August a letter addressed to the President, to the government of Berlusconi Uno dei punti cruciali di quella lettera era una riforma strutturale che veniva chiesta al governo ed era rilanciare su larga scala la privatizzazione della fornitura dei servizi pubblici locali che è esattamente il contenuto della norma abrogata il 12 e 13 giugno 2011 da 26 milioni di persone Oggi Mario Draghi, Presidente del Consiglio, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta a raggiungere l'obiettivo che non era riuscito a raggiungere nel 2011 And today, President Draghi, who is the President of the Council of Ministers through the Recovery and Resilience Plan is trying to reach the goal that he was not able to reach at that time, in 2011 Stimolando l'espansione della gestione attraverso le grandi multiutili di quotate in borsa in quei territori dove non sono presenti, in particolare verso il Sud Italia E tra le condizionalità che vengono imposte dalla Commissione Europea ai vari Stati non ci sono solo questioni economiche, interessi da dover pagare ma soprattutto molto pericolose sono appunto le riforme strutturali che vengono chieste che dovranno accompagnare la realizzazione e l'applicazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza E tra queste riforme, una che verrà approvata prossimamente, sicuramente entro l'estate è la riforma della concorrenza attraverso cui il governo sembra voler limitare fortemente la possibilità di gestione pubblica e quindi attraverso il combinato disposto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza i suoi contenuti e la riforma della concorrenza si aggira l'esito referendario e si raggiunge lo stesso obiettivo che si voleva raggiungere con quella lettera del 2011 e che il governo Berlusconi aveva provato a raggiungere con il decreto Ronchi nel 2009 So, through this, the recovery and resilient plan and this reform of competence, the aim is to disregard the result of the referendum we had in 2011 and to reach the objective written in the letter I mentioned before, the one sent by Mario Draghi and that were supported by the Decree of the Berlusconi and I'm referring to the Ronchi Decree of 2009 Inoltre, come sappiamo purtroppo tutti, al termine del 2020 l'acqua per la prima volta nella storia è stata quotata in borsa sul mercato statunitense, sulla borsa di Chicago e questo è un processo che riteniamo molto pericoloso e preoccupante perché rischia di emarginare dall'accesso a questa risorsa larga fascia della popolazione mondiale As you probably know, since December 2020, the water as a commodity has been traded on the market of Wall Street market, stock market in Chicago and this action will try to limit the access to water e quindi in questo scenario, speriamo uscita dall'emergenza sanitaria nel momento in cui si prova a ridefinire il futuro di ogni stato, di ogni società e dell'umanità sostanzialmente dopo questa pandemia, crediamo che non possa essere riproposta la privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici And so, considering this global scenario and hoping that the pandemic emergency will be over soon we think that it will be the time to redefine the future of the states and of the society and of the humanity in general and we believe that it is not acceptable to repropose the privatization of water Da tutte queste riflessioni, il fatto appunto di organizzare in questi giorni, per il decimo anniversario una grande mobilitazione per ribadire appunto questi principi e questi valori This is why, to celebrate the 10th anniversary from that referendum we believe that it was important to create a huge mobilization to remind the importance of these values E per concludere, questo appuntamento, questa iniziativa di oggi che vuole dimostrare attraverso i vari contributi che saranno portati da chi gentilmente si è reso disponibile intende dimostrare che laddove c'è la volontà politica si può tornare ad una gestione pubblica anzi costruire nuovi modelli di gestione pubblica del servizio idrico e quindi questo crediamo che sia un monito molto importante soprattutto per i nostri rappresentanti istituzionali And so, thanks to the precious contribution that you will give today we believe that if there is the political will and it will be possible to go back to a public management of water but not only this, we believe that it will be possible to create a new model for the management of water and so, we believe that this is a strong message to send to our institutional representatives